Ci sono. Buonasera Niam, complimenti per la vittoria e complimenti per il gol. Grazie. Cosa è scattato nella tua testa nel momento in cui hai visto arrivare quel pallone da molto molto lontano? Non lo so, ho pensato che devo calciare e quando ho visto la palla e il gol sono molto contenta. Primo gol con la maglia del Parma per te, è una sensazione particolare? Non sei una goleador tu, però insomma credo che l'emozione sia tanta. Sì, ma ho pensato che ovviamente mi piace di fare un gol, ma siamo una squadra. Se io faccio oggi, se un altro giorno, un altro calcio c'è fatto un gol, così sì, ovviamente sono contenta, ma per me è molto importante di prendere i tre punti. Arrivavo proprio su questo punto, il tuo gol ha permesso anche di conquistare altri tre punti in classifica. Nelle ultime tre partite sono sette in totale, è importante per la nostra posizione anche psicologica. Sì, sì, abbiamo giocato bene oggi e anche contro Como e Pomigliano, dobbiamo continuare così. Sì, la campionata è molto lunga, così sì, dobbiamo continuare. Credo che oltre alla vittoria un'altra cosa importante è non essere più ultime in classifica, questa vittoria ci ha permesso di scalare la classifica. Dal vostro punto di vista ne avete già parlato, magari anche in settimana, della possibilità appunto di salire in classifica. Sì, ma durante la settimana dobbiamo pensare solo con la partita, non con la classifica, ma sì, adesso non siamo l'ultima e speriamo che non siamo l'ultima ancora. L'ultima domanda per me, la prossima gara sarà contro un'avversaria molto forte come la Juventus, ma il Parma, da quando è arrivato Mr. Panico, ha già dimostrato di riuscire a giocare bene e a fare bene anche contro squadre più in alto in classifica. Sì, questa squadra è forte, ma nell'ultima partita ho pensato che giochiamo bene per non lo so 70 minuti, ma dobbiamo essere più bravi nell'ultimo minuti. Grazie. Grazie.